Innanzitutto ovviamente dobbiamo ricordare che generosamente accordandoci la sua presenza il maestro Fausto dei Tenguoreschi, successore nel dharma dei maestri Larita Roshi del Tessere Nishimara anche se condavate del tempo Zenfudeji, ci ha regalato questa opportunità di un incontro vivo, con la maestria. Cos'è la maestria? La maestria credo possa essere definita in questi termini la sempre libera espressione di abilità preconsce che si manifestano nell'immediatezza dell'agire incondizionale nell'azione potale perciò stesso eccellente. E' questo l'agire proprio di chi vive il coraggio di affrontare ciò che è intimamente riconosciuto come inelutabile, necessario, il tutto nello spirito di quella semplice, generosa osservanza che è l'implicazione totale di tutto ciò che occorre fare. Vedete non è semplice incontrare un maestro, neppure quando questa possibilità compare è tutto scottata, alla luce di una sua presenza in termini tangibilmente fisici. Vedete per vedere un maestro occorre esercitare un fiuto eccezionale, un fiuto animale, che ci faccia capace di essere attratto, e oserei dire anche, se mi permettete, eccitati, dal sentore di una presenza. Ora questa delicata sensibilità apre dallo sguardo poetico, dallo sguardo contemplativo, solo con il quale si può realizzare l'incontro, si va di bene non con un maestro, bensì con il maestro. Credo di poter dire che non esiste mai un maestro. Il maestro può solo rivelarsi, esserci. Ciò può accadere solo se ci riconosciamo, o meglio, se riconosciamo in noi, il discepolo, colui che è capace di vedere, che, qui cito il maestro Tren Ryokan, che è sotto al cavallo 3700-1800, dicevo di sempre colui capace di vedere che quando un fiore spenseratamente sboccia, una farfalla spenserata arriva al fiore, così come quando una farfalla giunge, fiore, sempre, salva. Oggi viviamo in un'occasione unica, un'occasione unica di riconoscerci per un anno, un uomo, un uomo, ma perché questo accada, questo nostro incontro, deve avere uno stile, uno stile che permette di evitare ciò che Emma definirebbe l'inflazione psichica dell'Io. Non ne siamo riusciti, comunque non ci siamo riusciti. Non può dunque risolversi in un incontro di Io, di tanti Io, in virtù del quale ci potremmo sentire in dovere di essere efficienti, efficaci, di rispondere a tono, di non divagare, di essere convincenti. In questo caso saremmo io immediatamente retiti dal pensiero orientato, finalizzato, che in definitiva a puro vivo. Meglio saremmo se riuscissimo a, meglio saremmo, scusate, se riuscissimo ad immergersi in un flusso di coscienza, in un'elaborazione cosciente tipica della realizzazione artistica, la quale richiede a quanti hanno tempo limitata, intensità di sbacco, pensiero riflessivo, sensibilità estetica. In altra parola richiede l'affidamento a quella consapevolezza che si danizza, che si informa attraverso i sensi. La nostra stessa pratica della Taiyoga è proposta qui, in questo luogo, come una sorta di elemento liturgico, dedicato a chi come noi riconosce di soffrire l'atrofia progressiva delle qualità e delle virtù del buon vivere e del buon morire, come dirà lei la lingua. Esercitandoci nel Lata Yoga, tentiamo di recuperare infatti un'autonomia somatica, ossia la fiducia in ciò che si sente, si percepisce, del proprio e dell'altro stato. Ci impegniamo in questa prospettiva perché siamo coscienti di essere delle vittime non incolpevoli di una disincarnazione della percezione. Questo sonno estetico dei sei sensi, che il maestro Taiten ricorda essere in totalità simbolica che dissolve ogni risoluzione totalizzante, viene in questo sonno si evidenzia in uno stato di tensione permanente relativa ad ipotetici rischi sentiti come incommenti. Non a caso sempre più persone si affidano a oggi per esempio a degli esami prognostici, neanche diagnostici, prognostici per sapere come stanno. Questa nevrotica preoccupazione anima un atteggiamento che condanna a temere ogni incontro, ogni avvenire, come qualcosa che colpirà per la colpa di non esserci preparati in tempo. Così vivendoci autocondanniamo ad un inferno coscienziale, ad uno stato di sospensione atopico e acronico, che è l'esatta antitesi del liberatorio qui e ora. Il nostro stile di pratica, tramite degli espedienti, PAIA, sviluppa tenta di imprimere un'attenzione animale, la quale favorisce l'ingresso in una dimensione evocativa, in virtù della quale ogni fenomeno può essere interiorizzato come unico, irripetibile, sintomo di una ulteriorità. Per questo ci spiace vedere includere la pratica iogica tra le cosiddette terapie somatiche, che in fondo dei sintomi vogliono solo sbalanzarsi. Vorremmo cogliere oggi l'opportunità di immergersi in quel campo di forza, spiritualmente affermatrici che è il San Diacano, letteralmente è il tempo di preghiera, ossia un momento di sospensione del pensiero, di quel pensiero che si pensa, come ricorda il maestro Paitè, così facendo sfrutta se stesso, orientato così com'è allo scopo, alla soddisfazione di desideri e di bisogno, non c'è altro che ci sia. Questa alchimia interiore, quale Aspiriani, può realizzarsi in occasione proprio di questo incontro, grazie alla dirompente forza provocatoria di un uomo che testimonia questa alchimia interiore, con e con la sua biosgrafia. Utilizzo questo neologismo di spicciola licenza poetica a posto di biografia, perché la parola bios rende il senso più forte, più autentico di curriculum vita, come forma divina. Ci troviamo in fratti di fronte ad un uomo, maestro Paitè, che si è dedicato a vivere la vita coltivando con pazienza il coraggio di non farla proprio, bensì di offrirla. Ergela, ecco perché gli si offre un seggio sul sedere. Ergela ha testimonianza. Solo così la sua biosgrafia continuerà ad essere evocativamente emblematica, esemplare. Pallet viene non una storia vera, ma un racconto mitico, ossia una storia vissuta perché è testimonianza. Dunque è autentica perché è narrabile e narrata da testimonianza. E ecco, i testimoni oggi potranno essere noi, se solo accogliessimo l'invito alla contemplazione, che è la stessa presenza del maestro Paitè informatica. Così da poter annunciare un giorno, così ha udito. E dunque rispettosamente aggiungere una parola, una grafia, al racconto, al di forza di termorezza. Ma per testimoniare, raccontare, occorre che le nostre menti si liberino, liberandosi di se stesse. Possiamo correre il rischio, accettare di correre il rischio di una rinascita, un'epifania del noi come stessi, come dice Giorgio. ipse. Dinanzi agli occhi, questa epifania, proprio dinanzi agli occhi di quel noi, di quel noi, che nel quotidiano solipsismo autoreferenziale ci raccontiamo di essere. In fondo, vedete, le storie veramente fasute, sono quelle che ci raccontiamo da soli, pensandoci. a proposito, vi è forse utile ricordare che fino al 1100 un uomo che rifletteva, raccontava a se stesso. Un secolo dopo, lo stesso uomo pensa. Ci siamo preparati a questo incontro costruendo, tra l'altro, un ponte, il quale è stato posizionato nel punto più sensibile di uno spazio chiuso dall'uomo, ossia in quell'apertura, la soglia, che è luogo di accoglienza per eccellenza, e che forse, proprio per questo, ha rappresentato la prima forma di altare. Abbiamo disposto il ponte in modo tale da non permetterci di superare nulla di ciò che attraversandolo si vorrebbe scavalcare. Conciò simbolicamente, riconoscendo che il vero ingresso nella dimensione dello spirito, nel doge, si realizza solo quando si riconosce la verità dell'abisso che ci costituisce. Siamo un'incarnazione di misteri. Affacciarsi a questo abisso significa prendere coscienza della nostra radicale solitudine. Ciò che solo può raggiungerci dell'altro è la parola che accogliamo per sempre. Solo un discepolo può affacciarsi sulla missa di questo ponte, seguendo il maestro mentre lo attraversa, ossia nel limitarlo, nella sua disponibilità ad ascoltare la voce dell'abisso, la voce del silenzio. Confesso di vedere nel maestro dei tempi una sorta di senocristallo, una parola che ho mutuato dalla geologia, proprio per ricollerarmi al fatto che egli è l'autore di un libro intitolato Fatti di terra. Va bene, xera cristallo è un termine che indica un cristallo che non deriva dallo stesso magma da cui ha origine la roccia igna nella quale aveva incastorato. Il maestro dei tempi infatti è un prezioso corpo estraneo, un uomo di un'altra pasta, di un altro tempo, anzi per essere più precisi oserei dire di un tempo altro. Egli vive infatti il tempo e nel tempo della sinfonia. Ricordo che un giorno raccontò di come lui stesso non capisse le parole del maestro Descimale e quale si esprimeva in una lingua straniera. Raccontò di come un giorno si sorprese a comprendere e addirittura ad anticiparmi la successione nel discorso del maestro stesso. Tutto ciò credo che fu possibile perché il maestro dei tempi si abbandonò improvvisamente all'evidenza dell'essere agito dal mistero custodito da quelle parole, come direbbe Dante, dall'amore che tutto muove. Quelle parole non dovevano essere collegate tramite ermeneutica, ma dal pensiero contemplativo capace di ascoltare alla voce degli abissi che siamo e che solo la grazia di un istante, di un istante di simpatetica sintonia può farci comprendere. Ed è proprio nella fiduciosa attesa di questo istante di magica comprensione amorosa che oggi il maestro Peitè ci sediamo devotamente a cantare. Grazie.